Ma ti ricordiamo di restruire! Le soluzioni adottate erano, dopo tutto, le sue possibili, in attesa che l'esperienza si esiste, se non avrebbero di fondo adesso, e vedo la guarda di picchia. Perfetto, ma tu lo capisci? Quello che io... Per tutti, tutti lo che stiamo parlando, diciamo dalla nostra famiglia, dai nostri amici, dai nostri amici di casa, dai nostri colleghi di lavoro, ma chi ha voglia di darci una mano? A parlare di un dato, con tant'ora non ha deciso, perché i soldati che si cambiano, io non so se sono giusto o sbagliato, ho mandato di dover aspettare tanto un'aula di questo, che non passa per me. Allora, ne facciamo tanto... Voi avete già letto la scheda elettorale? Allora...